sono deboli in questo momento e sa anche che i 5 Stelle sul TAV non possono arretrare. A di là dei discorsi tecnici che facciamo, costi, benefici eccetera, il TAV è uno dei miti fondanti del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle nasce di fatto in Valsusa, insieme ai valsusini che resistono al TAV. Il Movimento 5 Stelle con il contratto di governo ha detto molti sì rispetto a quello che era il suo programma. Ha detto sì alla Milano-Genova, ha detto sì al TAP, ha detto sì all'Ilva, agli indiani e da questo punto di vista, secondo molti osservatori, si è dimostrato forza matura di governo. Rispetto a un'opera importante, certamente dice Camperino, ma non l'opera più importante d'Italia, si aspettava che la Lega potesse capire se davvero la Lega non mentiva quando diceva vogliamo governare per 5 anni. In una coppia è normale che ci siano dei momenti di attrito su delle cose anche importanti, ma una coppia che vuole continuare ogni tanto cede uno dei due della coppia. Bene, questo è il momento in cui si vedrà come va a finire. Si vedrà se Talvini diceva la verità quando diceva che voleva governare 5 anni o se invece era semplicemente strategia. Io sottolineo una cosa, Salvini vive sui social, sui social sta succedendo di tutto. Ci sono decine e decine se non centinaia di simpatizzanti militanti della Lega che per la prima volta gli dicono cosa stai facendo.